Alle volte capita di voler realizzare delle scene notturne. Lavorare direttamente di notte non è una buona idea, soprattutto se la macchina opera in automatico, perché cercherà di alzare la luminosità e vi ritroverete con delle macchie nere nelle parti oscure della ripresa. Se poi la macchina riesce ad amplificare la luce fino a portarla a valori molto elevati, addirittura perdete l'effetto notturno che state cercando. Per questo motivo la soluzione può essere quella di lavorare al crepuscolo, quando c'è ancora della luminosità naturale, ma quando le luci delle strade e delle eventuali macchine sono accese. Successivamente, in post produzione, si potrà scurire l'immagine fino ad ottenere l'effetto cercato. Grazie. 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 Eccovi un esempio. Grazie. Grazie.